Ed eccoci qui per questa terza e conclusiva giornata del Salone del Risparmio 2019. Ricordiamo alcuni numeri, oltre 100 conferenze, 230 speaker nazionali e internazionali e un'attesa di 15.000 visitatori che già hanno comunque in queste giornate alimentato sia gli stand sia le numerose conferenze. Ma adesso ho qui in mia compagnia Marco Orsi di Seeds Asset Management, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi, buongiorno. Allora cerchiamo di raccontare un po' ai nostri telespettatori quali sono le proposte di investimento della sua casa di gestione. Sì, noi siamo come diciamo parecchi propensi al rischio, quindi cerchiamo di suggerire e di comunque cogliere le opportunità che ci sono sul mercato, in particolare sul mercato giapponese, perché il mercato giapponese, equity, è un mercato che è più a sconto rispetto agli altri mercati Europa e America, in più si scommette sulla stabilità del Giappone. Di fatto se si fa un confronto con l'Europa si vede una grande instabilità politica, parecchi rischi all'orizzonte, dei prezzi che sono più cari rispetto a quelli giapponesi, mentre il Giappone diciamo che è 10 anni più avanti. L'Europa si sta giapponesizzando adesso, mentre il Giappone è già uscito da questa fase, tant'è che è in piena occupazione. La Banca Centrale è decifrabilissima, quindi si capisce che cosa farà, rimarrà ferma di fatto, perché non può aumentare i tassi, perché sta già aumentando l'IVA quest'anno, quindi non può fare due politiche monetarie restrittive. Non c'è inflazione, oppure c'è inflazione ma è sotto controllo e la crescita, sì è in rallentamento come negli altri paesi, però non è in recessione, quindi è una light goldilock giapponese. In più se si riesce a mantenere e a resistere e a mantenere il cambio aperto, quindi nien giapponese, si riesce anche in fasi di mercato calanti ad avere la protezione della valuta di riferimento per molti investitori che vogliono trovare un porto sicuro e la valuta giapponese serve a bilanciare nei momenti di mercato negativi. Ha citato il Giappone ma anche un'altra caratteristica che vi identifica, la gestione, la capacità di gestione del rischio. Ecco, spostandoci magari dal Giappone ad altre aree geografiche, su cosa potremmo orientarci? Dunque noi abbiamo un ottimo team che gestisce l'Europa, che in questo momento sta soffrendo perché di fatto loro non guardano la macroeconomia ma guardano l'andamento delle società, i valori fondamentali delle società e vengono presi in considerazione principalmente quei titoli che sono negletti dal mercato. Adesso ce ne sono tante società che sono neglette dal mercato per vari rischi, tra cui Brexit. Quindi il fondo non sta facendo benissimo ma c'è una grandissima qualità e i titoli sottostanti sono molto a sconto e con invece le stime di rendimento, di profittabilità delle stesse società molto elevate. Quindi si ha lo sconto per il fatto che sono negletti ma si ha il vantaggio, diciamo il volano, dei risultati che sono molto positivi delle stesse società. Quindi si va a fare un tipico investimento value. Perfetto, io ringrazio nuovamente Lottor Rossi per essere stato qui con noi, non mi resta che ridare la linea allo studio. Grazie a voi.